buongiorno a tutti e ben ritrovati con fake news oggi andiamo ad analizzare le parole le esternazioni del senatore ed ex premier tecnico italiano mario monti che ha rilasciato in diretta nella trasmissione in onda sulla set delle esternazioni gravissime davvero inquietanti dal carattere avversivo in cui ha in qualche modo auspicato addirittura caldeggiato che cosa la necessità da parte dei giornalisti della stampa mainstream di dosare l'informazione comprimere limitare le libertà e censurare il dissenso ebbene queste dichiarazioni gravissime sono state tra l'altro ben spiegate dallo stesso monti con una reazione a mio dire emblematica perché i padroni di casa a partire da parenzo de gregorio ma c'era anche presenti in studio da milano invece di rispondere con indignazione o comunque dimostrare contrarietà a queste esternazioni hanno hanno risposto con stupore si inizialmente ma in qualche modo anche con ammirazione con lo stesso parenzo e continuava a dire interessante interessante professore la de gregorio che ha cercato di incalzarlo sulla questione della censura del dissenso c'è una una parte di queste esternazioni di monti che è molto chiara e che vi vado a leggere bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione in una situazione di guerra si devono accettare delle limitazioni alle libertà allora ci troviamo davanti a un discorso assolutamente anti democratico in cui monti è arrivato a consigliare l'utilizzo della propaganda della propaganda bellica lo spiega proprio lui per dosare l'informazione e ha ripetuto più volte proprio l'espressione dosare l'informazione cioè ha consigliato in diretta ai padroni di casa e più in generale ai giornalisti mainstream di dosare le informazioni che vengono promosse divulgate in modo da fare come si è fatto in passato durante le guerre cioè utilizzare la propaganda bellica per manipolare l'opinione pubblica ed etero dirigere il consenso il discorso di monti parla da ormai un luogo assolutamente comune cioè il fatto di paragonare la pandemia a una guerra abbiamo assistito negli ultimi due anni a che cosa una vera e propria mitologia bellica si paragona la pandemia una guerra il virus è un nemico il nemico invisibile ci sono ovviamente gli eroi di guerra i medici gli infermieri ci sono i cattivi disartori in questo caso i novax i no pass e tutto il resto abbiamo già visto anche all'interno di questa rubrica come nei mesi molti esponenti politici ma anche del del mainstream televisivo abbiano caldeggiato che cosa di non invitare più gli esponenti no pass e novax cioè tutti coloro che sono renitenti nei confronti del dei vaccini che hanno dei dubbi non dovrebbero essere invitati nei confronti televisivi per non scioccare l'opinione pubblica e soprattutto per far cosa per evitare un contagio delle idee per evitare che il dubbio possano soltanto trappelare ma soprattutto serpeggiare nell'opinione pubblica e tra l'altro sempre nei giorni scorsi c'è stato un altro intervento sempre sulla sette una delle reti davvero meno democratiche che troviamo ormai in circolazione per quanto riguarda i contenuti appunto giornalistici e i talk show dove ospite di lilly gruber c'era crisanti crisanti come sappiamo ha palesato i suoi dubbi le sue criticità riguardo alle somministrazioni del siero anti covid per i bambini quindi per le vaccinazioni in età pediatrica anti covid e cosa è successo è successo che nonostante insomma la reazione contrariata della della padrona di casa quindi della della gruber è intervenuto severgnini che ha interrotto crisanti mentre stava parlando mentre stava anche spiegando il motivo della sua contrarietà ai sieri e serve i mini ha pubblicamente dichiarato che cosa che però queste cose ha detto professore quindi rivolgendosi a crisanti queste cose non si devono dire in tv in prima serata in questa fascia oraria cioè servergnini che anche lui un giornalista e che dovrebbe essere mosso spinto dalla vocazione per la verità ha sconsigliato a crisanti di manifestare pubblicamente in televisione poi in un orario come quello in cui va in onda la trasmissione della della gruber i propri dubbi sulle vaccinazioni per i bambini perché in questo modo insomma si disincentiva la campagna vaccinale e si va evidentemente ad amplificare la posizione di coloro che sono remitenti appunto al siero quindi ci ritroviamo a distanza di poche ore due interventi che sono assolutamente anti democratici che stanno spingendo che vorrebbero che l'informazione mainstream diventasse alla fine che abbracciasse in tutto la propaganda e addirittura la propaganda bellica perché Monti ha proprio spiegato che bisognerebbe fare come in passato cioè come durante le guerre quindi partendo dall'adagio per cui siamo in guerra che la pandemia è una guerra e tutta una serie di restrizioni di limitazioni di compressioni delle libertà e dei diritti fondamentali diventano lecite e tra l'altro ormai questa limitazione della libertà questo giro di vite questo giro di vite sulle nostre libertà e sui diritti civili non vengono neanche più nascoste vengono palesate vengono espresse pubblicamente tra l'altro noi abbiamo anche l'abbiamo proprio sentite da un ex premier italiano che era stato messo lì lo sappiamo benissimo dalla plutocrazia mondiale da certi potentati che insomma appartengono alla tecnocrazia e che l'avevano messo lì insomma come premier per far che cosa per poter portare avanti tutta una serie di misure assolutamente impopolari che non avrebbero trovato il appunto il consenso ebbene tra l'altro dobbiamo anche ricordare che sempre monti nel febbraio del 2011 aveva dichiarato con convinzione che abbiamo bisogno di crisi per fare dei passi avanti e che l'europa appunto poteva sfruttare come un'occasione come un'opportunità le crisi per poter portare a un'accessione della sovranità nazionale da parte dei vari paesi per poter costruire un'europa più forte quindi in qualche modo già con queste dichiarazioni del 2011 eccheggiava che cosa? eccheggiava le posizioni di Milton Friedman della scuola di Chicago e della dottrina dello shock che sfrutta proprio le crisi che siano artificiali, che siano indotte, che siano naturali come un'occasione, come un'opportunità per imporre le proprie ricette economiche e per far passare tutta una serie di provvedimenti che altrimenti sarebbero appunto impopolari indesiderati e che si rischierebbero di non riuscire ad adottare e bisogna anche ricordare che Monti è stato il rappresentante proprio nel biennio del 2010 e 2011 è stato il rappresentante europeo della commissione trilaterale la commissione trilaterale grazie al suo cofondatore, il giostratega polacco Zibniew Brezzezinski nel 1974 aveva pubblicato o ha dato alle stampe un contributo particolare un saggio, la crisi della democrazia, a firma di Huntington Crozier e Watanuki in cui si sottolineava il bisogno di instaurare un dialogo tra il Dipartimento di Stato e le multinazionali e si affermava che una repubblica democratica è l'unica via per imporre l'autorità ma non necessariamente è applicabile in tutti i suoi rapporti proprio in questo saggio emergeva che cosa? emergeva il fatto che fosse necessario da quel momento in poi, siamo negli anni 70 limitare la sovranità nazionale dei vari paesi per poter porre le basi per la creazione di un governo unico, un potere economico mondiale superiore a quello politico delle varie nazioni ovviamente sarebbero state necessarie delle crisi ossia delle crisi proprio come quelle auspicate dallo stesso Monti per convincere i vari paesi a rinunciare progressivamente alla propria sovranità alla propria sovranità nazionale ora ci rendiamo conto che questo tipo di intenti viene portato avanti da decenni appartiene, nasce, si sviluppa e in qualche modo si trasmette all'interno di queste elite tecnocratiche all'interno di questi potentati, di queste lobby economiche di cui evidentemente Monti è uno dei tanti e numerosi rappresentanti che non hanno mai nascosto i loro intenti ricordo anche che la crisi della democrazia è stata pubblicata in Italia con la prefazione di Giovanni Agnelli nella versione quella originale c'era proprio la prefazione di Brzezinski e in Italia, sempre in Italia mi piace ricordarlo perché è assolutamente chiaro la continuità di pensiero e lo spiego ampiamente in coronavirus in nemico invisibile dalla minaccia globale al grande reset sempre in Italia la versione tradotta, pubblicata in italiano da Franco Angeli della quarta rivoluzione industriale Klaus Schwab il papà della teoria del grande reset alla prefazione di John Elkahn quindi il nipote di Agnelli che cura la prefazione di un libro che in qualche modo lo possiamo definire l'erede della crisi della democrazia perché là in qualche modo si spiegava come salvare la democrazia con uno suotamento della democrazia stessa e nella quarta rivoluzione industriale si gettano le basi per che cosa? per il grande reset che sarebbe proprio il compimento di questa erosione della democrazia e sempre nella quarta rivoluzione industriale si gettano le basi per quella che sarà la dottrina del grande reset che sfrutta sempre come un'occasione come un'opportunità e a parlare in termini di occasione di opportunità e lo stesso Schwab l'attuale pandemia proprio per traghettare la nostra società verso uno sconvolgimento verso una rifeudalizzazione ebbene tutte queste esternazioni queste dichiarazioni sono ribadisco sono assolutamente chiare basta saper ascoltare basta saper leggere sapere dove andare a cercare è tutto sotto il nostro naso una continua erosione dei nostri diritti e delle nostre libertà in nome di una guerra dato che si vuole continuare a far passare questa equiparazione tra la pandemia e la guerra e il fatto che si voglia anche far che cosa? non soltanto dosare l'informazione quindi in qualche modo adottare un metodo orwelliano tipico del Ministero della Verità per cui per garantire l'infallibilità del sistema si falsifica si manipola si censura l'informazione si scelgono soltanto i dati le notizie che possono far comodo appunto al sistema ma poi il fatto di continuare a far ricorso al terrorismo mediatico la criminologia sanitaria in poche parole alla paura per continuare a sostenere la narrativa pandemica ora più chiaro di così davvero si fatica a immaginare ma le parole dello stesso Monti ma soprattutto la reazione dei padroni di casa di coloro che sono giornalisti che dovrebbero invece indignarsi e dire no il mio lavoro la mia vocazione è quella di cercare la verità e anche se la verità è scomoda io devo continuare ad andare avanti non posso censurarmi e dosare le notizie le informazioni che trovo perché potrebbero essere scomode e invece i padroni di casa così come tanti altri giornalisti invece di indignarsi hanno quasi acclamato abbracciato con con stupore ma anche con ammirazione questo invito ad osare l'informazione davvero una lennesima possiamo dirla possiamo dirla così pietra trombale sull'informazione nostrana a Grazie a tutti.